Questa è un condominio di due palazzine che stanno uno di fronte all'altra col cortile e mezzo. In tutti i condomini minimo un contestatore ci deve stare. Ora c'è la nazzitella del secondo piano, chiama l'amministratore e gli fa no, e lei deve fare qualcosa, lei deve intervenire perché non è possibile che io non posso aprire la finestra della camera da letto. L'amministratore gli dice scusi ma che è successo? E che è successo? C'è l'inquilino del palazzo di fronte che quello gira nudo e a me mi dà fastidio, io non posso aprire la finestra. Dice vabbè guardi passo vengo a vedere, questo è il pomeriggio qua là, dice mi faccia vedere, o porta la camera da letto, questa apra la finestra. Effettivamente dall'altra parte si vedeva questo che girava ma stava a torso nudo perché dal davanzale non riuscivi a vedere, cioè si vedeva solamente che girava a torso nudo. Allora l'amministratore gli fa, dice vabbè signora ma insomma prima cosa fa caldo, poi da così si vede che sta a torso nudo ma potrebbe benissimo averci i pantaloni sotto. Ah ci potrebbe benissimo avere i pantaloni sotto e allora provi a salire sopra l'armadio e guardi.